Sono qui dopo un giro in tutta Italia di visita di aziende da nord a sud e la scoperta, devo ringraziare questa opportunità di fare il ministro del gruppo economico perché si scopre un'Italia che non compare mai in prima pagina, non merita attenzione di battito politico mediatico, ma è l'Italia che lavora, che produce e che poi mantiene tutto il sistema.